Venerdì Ti piace vincere facile? Gratta e vinci ti circonda di fortuna Tanti biglietti, tante occasioni Gratta e vinci, vinci stesso, vinci adesso Gioca senza esagerare E' un gioco che ti porta a perdere Punta al divertimento Gioca su eurobet.it Bello vincere in casa Quindi al contrario Perché il gioco Non porta sempre a perdere Anch'io che so fosse facile vincere Ho iniziato perché ho perso il lavoro E riempivo così il tempo Sperando di guadagnare qualcosa facilmente Poco a fuoco però Ci ho preso la mano Ho iniziato a giocare sempre di più Fino a tre volte a settimana Arrivando a spendere anche 600 euro in un mese Ogni volta speravo di rifarmi dei soldi spesi E puntavo sempre di più Ma alla fine Perdevo sempre A volte per non pensarci Buttavo giù qualche bicchiere Io sono un giocatore d'azzardo patologico La mia malattia è classificata all'interno Dei disturbi del controllo degli impulsi Sesso e droga La mia malattia è classificata all'interno Grazie a tutti